vivere bene e vivere a lungo ma quali stili di vita bisogna adottare e quale alimentazione per essere longevi ne parliamo oggi ad fm salute con due ospiti con la dottoressa cristiana perio biologa nutrizionista e coordinatrice scientifica della regenera research group e la dottoressa rita travaglini medico di medicina generale e specialista in ginecologia salve bene cristiana parliamo dell'associazione della quale sei coordinatrice scientifica della regenera research group sì allora regenera è un'associazione internazionale per la medicina preventiva e predittiva si occupa di fare ricerca scientifica e divulgazione a livello internazionale ne fanno parte i grossi nomi come anche il professor craig wilcox che sarà ospite poi allongeva marche lunedì prossimo e questo scapagnini e ne è fondatore o meglio co fondatore il dottor ascanio polimeni che sarà anche lui relatore a questo convegno e che ha diciamo un po la mente di quella che ha proprio la divulgazione di regenera perché questo longeva è un ultimo evento ideato ma precedentemente ci sono stati diversi eventi incentrati sulla meno pausa donne senza pausa che insomma di cui abbiamo fatto già quattro edizioni quindi l'associazione si occupa proprio di divulgare quelle che sono le ultime novità in tema di ricerca scientifica sulla prevenzione e su stile di vita amici della diciamo longevità attiva si chiama e cioè di una longevità libera da malattia ecco abbiamo già nominato una presenza internazionale quella di del professor craig wilcox che da anni studia proprio i centenari di okinawa per esportare nel mondo la ricetta della longevità quindi sarà anche interessante l'intervento e soprattutto penso che sia un onore per per l'associazione avere anche una presenza così importante sì con il professor wilcox regenera collabora a diverso tempo lui è spesso relatore ad eventi a livello internazionale è stato relatore ultimamente in brasile al congresso della medicina anti aging quest'anno a monte carlo a marzo al congresso papo mondiale sulla medicina anti aging perché diciamo il suo intervento è importante sarà un onore ospitarlo a sammetto all'un poi in collaborazione con l'università di camerino perché si è pensato proprio che per capire quali sono i segreti di una vita lunga attiva e ripeto libera da malattia non non sempre necessario studiare le malattie ma bisognerebbe capire meglio come vivono e quali sono le caratteristiche delle persone che vivono a lungo senza ammalarsi questo succede a tanti a tanti piccoli gruppi nel mondo quello più conosciuto è proprio quello di okinawa che è studiato a wilcox ma ce n'è uno per esempio anche vicino a los angeles lo malinda e vengono studiati anche i nostri centenari italiani in sardegna però è vero che una delle zone forse poco considerate in questo senso esiste anche proprio qui nelle marche perché abbiamo anche noi nostri centenari tant'è vero che qualcuno di loro sarà presente per una breve intervista anche nel corso proprio del convegno di lungeva marche e quindi wilcox sta studiando appunto a okinawa questi arzilli vecchietti che a 105 anni corrono i 100 metri nell'ambito proprio di una gara riservata alla terza età e appunto vivono tanto a lungo senza ammalarsi muoiono liberi da malattia l'incidenza di malattie che affliggono il mondo occidentale come i tumori come l'alzheimer come il parkinson lì in cui possa è veramente molto bassa e si è capito proprio che un mix di sicuramente genetica perché si stanno studiando anche a livello genetico queste popolazioni ma anche di stile di vita e di alimentazione proprio una cosa anche simpatica dire che fino all'età di 90 anni loro riescono a leggere senza usare gli occhiali e questa cosa noi a 46 anni cominciamo ad avere difficoltà proprio a mettere a fuoco e quindi cominciamo a usare gli occhiali per leggere da vicino no e per cui è interessante appunto studiare e capire cos'è che li protegge ecco come tutti auspichiamo la longevità così come sono longevi le tantissimi anziani che poi saranno presenti al convegno e soprattutto anche le marche sono una regione longeva perché poi c'è una comunità ad Ascoli Piceno che vanta diversi centenari. Dottoressa Travaglini ma quali sono i segreti per poter arrivare in salute e soprattutto quali sono numeri e qualità? Allora i segreti sicuramente c'è una componente genetica questo non può essere ignorato tant'è che ad esempio la comunità sarda sicuramente saprete che è stato fatto un furto del DNA di questi longevi della comunità sarda che stanno studiando però diciamo che la genetica non basta sicuramente è molto importante uno stile di vita quindi un impegno personale di ogni persona e sicuramente è anche importante l'azione del medico nel senso che la promozione dei corretti stili di vita non può essere fatta a 90 anni va iniziata già nel bambino perché molte delle malattie che hanno poi un grandissimo impatto sulla qualità di vita e sulla mortalità possiamo e dobbiamo prevenirle già in età anche pediatrica correggendo il diciamo il gusto del cibo che si va che si va a mangiare l'attività fisica prevenendo l'obesità e addirittura potrei dire proprio con la mia con la mia formazione di tipo ginecologico che già durante la gravidanza alla madre vanno date quelle giuste informazioni per prevenire ad esempio il diabete gestazionale che poi sicuramente potrebbe avere una ripercussione sul bambino che nascerà e quindi sull'adulto quindi la promozione di questi stili di vita abbiamo nominato ascoli diciamo i dati che noi andremo a portare sono quelli della regione marche allora la regione marche al nel 2015 poteva essere considerata la regione più longeva d'italia adesso leggermente al primo gennaio 2016 c'è stato un piccolo abbassamento però rimane comunque una delle regioni a più alto indice di vita che cosa abbiamo visto noi in questi dati abbiamo visto che la percezione che poi dimostreremo con dei numeri che la vita media si è allungata più nelle donne che negli uomini perché ci sono meno fattori di rischio fino ad 80 anni diciamo è un po la medicina che è andata avanti che riesce ad allungare la vita media quindi questi questi nostri pazienti fino ad 80 anni hanno avuto molti interventi di tipo sanitario utilizzano tanti farmaci poi che cosa succede via via con l'aumentare dell'età diminuiscono le patologie diminuisce l'utilizzo di farmaci e diminuiscono le azioni di tipo sanitario quindi questo che cosa ci dimostra che veramente questi nostri longevi sono così perché c'è la componente genetica hanno attuato degli stili di vita sani quindi non tanto dovuto all'intervento sanitario che poi quando andiamo a riscoprire vediamo che questi nostri anziani che abbiamo già intervistato noi hanno messo in atto nella loro vita quelle indicazioni che adesso vanno tanto di moda no del digiuno le ore di digiuno prolungato mangiare dare la precedenza le verdure anziché alla carne utilizzare pochi latticini quindi non si fa altro che adesso riscoprire con i nostri studiosi delle degli stili di vita che i nostri centenari già mettevano in atto spontaneamente quindi potremmo dire che la longevità passa dalla prevenzione questo sicuramente c'è la componente genetica ma sicuramente la prevenzione è importantissima diceva cristiana avremo e anche lei avremo tanti anziani lì no noi vogliamo avere le persone giovani perché con loro che vogliamo fare la prevenzione è lì che dobbiamo insistere gli anziani o già hanno acquisito delle informazioni per informazioni cioè hanno adottato uno stile di vita che quello è lo hanno messo in atto ma noi vogliamo fare la prevenzione sulle persone giovani per far sì che diventino tutti più longevi anziani nel senso avremo anche dei centenari ah sì dei centenari quelli per la nostra intervista che sicuramente gli anziani verranno perché insomma sì 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 certo infatti volevo precisare una cosa diceva la dottoressa travaglini no e i centenari di oggi sono quelli che in realtà hanno messo in atto questi stili di vita protettivi loro l'hanno fatto inconsapevolmente perché ai tempi della guerra quando loro erano giovani non è che loro si privavano della carne o mangiavano poco perché lo volevano fare di fatto erano costretti non potevano fare altrimenti quello che deve passare che noi dobbiamo prendere esempio da loro e oggi metterlo in atto nella nostra società la nostra realtà è un po più difficile e complesso c'è bisogna saperlo esserne coscienti e praticarle queste regole il digiuno prolungato adesso si è parlato molto anche di valter longo è stato intervistato poco fa alle iene hanno fatto proprio un servizio su di lui è diciamo lo scienziato nel mondo che più tutti studia il digiuno e la dieta minima digiuno e durante questo convegno allongeva marchio ci sarà il dottor polimeni che parlerà a lungo di questo discorso il cronofasting del digiuno appunto intermittente su cui ha lavorato molto e ripeto prima erano delle pratiche che si mettevano in atto anche a volte per motivi religiosi durante la quaresima in italia canale diciamo nazione in cui il cattolicesimo ha preso molto piede si faceva il digiuno perché era quaresima si attuava si faceva anche il digiuno perché proprio non c'era da mangiare adesso invece ripeto devono essere trasmesse e diciamo divulgate queste notizie perché le persone per mettere in atto questi comportamenti devono essere preparati e consapevoli perché in realtà noi oggi ci confrontiamo con tanto cibo troppo cibo di pessima qualità mediamente e quindi dobbiamo diciamo costringerci per certi versi a essere coscienti essere consapevoli di quello che facciamo e di quello che mangiamo quindi potremmo dire che la salute via mangiando sicuramente sì è uno dei è uno diciamo quando si parla di stile di vita non si parla chiaramente solo di alimentazione la parola dieta in greco non significa dieta ma significa appunto uno stile di vita a 360 gradi per cui parliamo anche di movimento i centenari di oggi erano persone che camminavano molto le donne andavano alle fonti a lavare i panni quindi facevano un esercizio fisico ho torto collo lo dovevano fare perché proprio loro richiedeva la vita di tutti i giorni la quotidianità oggi noi per fare attività fisica andiamo 50 minuti in palestra non è proprio la stessa cosa però sicuramente l'attività fisica insieme all'alimentazione le ore di sonno è tutto un insieme diciamo di di attenzioni che ci permettono di invecchiare bene di invecchiare con successo di invecchiare in salute e quindi queste informazioni devono essere chiaramente date al pubblico date alle persone perché possano perlomeno scegliere è un discorso poi di scelta magari non tutti vogliono arrivare a cent'anni in salute qualcuno potrebbe dire no vabbè vivo di meno però vivo come mi pare no però almeno queste cose devono essere diciamo divulgate le persone devono saperle per poter scegliere perché poi la cultura no ci permette di fare delle scelte e comunque tanto per citare uno slogan uno slogan forse diceva diceva cristiana non tutti vogliono scegliere di arrivare a 100 anni ma tutti vogliono la buona salute quindi lo scopo del medico qual è tanto per citare uno slogan molto diffuso di un anonimo il medico deve regalare vita agli anni e non anni alla vita quindi degli anni in sé ce ne facciamo ben poco degli anni in salute è il nostro scopo una domanda anche il discorso adesso di di inserire negli integratori specialmente nell'anziano nella propria dieta ha dei benefici allora indubbiamente sì quando gli integratori vengono dati da persone competenti come alcuni medici alcuni anche colleghi miei anche alcuni nutrizionisti però il ruolo dell'integratore ha un ruolo molto importante che non deve essere assolutamente banalizzato come si fa oggi perché non si può comprare un integratore semplicemente perché viene pubblicizzato pubblicizzato in televisione o perché l'amico o il vicino di casa te lo raccomanda e gli integratori possono essere molto utili quando è necessario assumerli per l'organismo per cui vanno presi e dopo indagini rita dimmi se sbaglio dopo indagini mediche approfondite consigliate a persone da persone appunto competenti oggi va molto di moda per esempio la vitamina d è verissimo che la vitamina d ha degli effetti protettivi però è un farmaco non ce lo dimentichiamo deve essere dato dal medico che la fa dosare che capisce il quantitativo che la persona deve assumere per cui non si può essere assolutamente approssimativi e secondo me il ruolo importante che sta svolgendo e regenera soprattutto nella nostra regione dove è molto presente ma quest'anno per esempio condone senza cosa siamo stati anche a verona quindi nel veneto è proprio quello di diffondere informazioni scientificamente solide e corrette un'altra cosa volevo dire che spesso non viene considerata non viene presa in considerazione alimentazione sana si un altro fenomeno che noi medici andiamo a vedere certe volte è la malnutrizione degli anziani questo è un problema molto serio perché gli anziani molto spesso si nutrono di cibi poco nutrienti e magari se sono anche un pochino allettati eccetera se non introducono uno giusto fabbisogno calorico giornaliero anche tutti i nutrienti noi vedremo che è malnutrito per cui incominciano tutte le carenze dovute a malnutrizione il soggetto si alletta si formano piaghe da decupido cioè una piaga da decupido non guarisce con le medicazioni ma guarisce con una giusta alimentazione quindi stare attenti a quello che si mangia proprio a 360 gradi quindi nell'anziano è anche da prendere in considerazione la malnutrizione perché quanti anziani si mangiano solo la minestrina la minestrina oppure si mangiano dei biscotti e anche per motivi pratici non riescono a fare e sì non riescono a fare la spesa hanno anche un problema economico hanno anche un problema economico per cui proporre di mangiare pesce quattro volte a settimana la verdura chi l'acquista chi la paga chi la pulisce chi la prepara dobbiamo tener conto anche di questi risvolti sociali volevo infatti dire una cosa in più che anche molti giovani oggi sono malnutriti perché il discorso delle diete è un discorso che piace a molti ma è una dieta diciamo ben performata ben congetturata deve essere sempre personalizzata e a prescindere da questo il discorso che dice che faceva dottressa travallini anche questo che nella pratica noi abbiamo visto intervistando questi centenari che hanno avuto un'alimentazione molto corretta da giovani ma poi in realtà durante gli anni della terza età diciamo e poi dell'anzianità proprio più marcata si sono purtroppo anche loro deviati diciamo così verso un'alimentazione scorretta e più industriale molti fanno cena con la tazza di orzo e biscotti questa non è una pratica sana è vero che tendono a mangiare poco la sera a cena questa è una cosa che li preserva diciamo uno stile che li preserva da certe patologie gli aiuta comunque a stare in salute però a volte scelgono male quello che devono mangiare proprio per i problemi che ha citato la dottressa travallini bene tutte queste informazioni e non solo le potremo ascoltare al convegno Rongeva Marche il 17 ottobre a San Benedetto presso la sede dell'università di Camerino a Metà Lungomare ex Gil la chiamiamo noi San Metto comunque proprio a Metà Lungomare fra San Metto e Porto d'Ascoli ecco un convegno aperto a tutti quindi soprattutto ai giovani che vogliono arrivare più in là il possibile con gli anni ci saranno tre sessioni di convegno con diversi relatori e specialisti che faranno degli interessanti approfondimenti ci saranno due relazioni molto interessanti che saranno diciamo esposte da due professori dell'università di Camerino una sulle molecole biattive contenute nelle lenticchie e una sul sedano selvatico quindi vi invito a partecipare perché si parlerà anche appunto di cibi funzionali oltre che di centenari sicuramente e quindi se volete rimanere in salute non perdete il convegno di Lungiava Marche grazie 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 a tutti.